E' bello dialogare con voi cari amici e quindi grazie, grazie per le email che mi mandate o per quando mi fermate per strada. E' bello perché un monologo serve nemmeno a te stesso. Invece dialogare ci fa ripensare a quello che abbiamo detto, ci fa scoprire la ricchezza dell'altro. In un certo senso ti dà anche una soddisfazione interiore perché tu vivi quello che fai come ministero e anche perché il dialogo ti aiuta a tornare sui tuoi passi oppure ti aiuta a rivedere i tuoi programmi. E questo avviene anche in questo programma. E di recente ho incontrato una persona che mi ha detto, quasi rimproverandomi, che io di tutto parlo o di tutto dico, eccetto di Papa Francesco, che per lei è il simbolo più autentico della felicità, che è il tema che stiamo in un certo senso proponendo in questo periodo. Beh, io, poiché molte volte le nostre trasmissioni nascono qui, non mi ricordo se ho dimenticato del tutto Papa Francesco, ma non penso. Comunque fa sempre bene. Oggi accontento lei, accontento me e accontento anche voi, riprendendo il nostro discorso sulla felicità, proprio andando a cogliere alcune parole che nel 2016, che chiedo scusa, durante il giubileo dei ragazzi e delle ragazze, ha pronunciato. Papa Francesco, praticamente, con le parole che adesso ci dice, indica una strada, come fa sempre, soprattutto quando parla ai giovani, quando parla ai ragazzi, da buon nonno, tra virgolette, lui indica una strada, strada che lui ha vissuto, strada che lui vive, strada che lui cammina, percorre. Sentite che cosa dice. Non si scarica sul telefonino. Nemmeno la versione più aggiornata potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell'amore. Ecco che già il Papa ci dice che la felicità non è nelle cose. Lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto. Forse per noi è anche scocciante sentire sempre le stesse cose, ma un giovane che vive in un contesto sociale, culturale, in un contesto in cui i messaggi che arrivano sono soltanto relativi al possedere. Io valgo se possiedo, io sto al passo con gli altri, o meglio, sto prima degli altri, sto avanti agli altri, solo se riesco a comprare l'ultimo telefonino uscito, oppure l'ultima giacchetta, piuttosto che pantalone, piuttosto che camicia firmata, l'ultima borsa, eccetera, 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 l'ultima macchina, eccetera, eccetera, eccetera. No, la vera felicità non è nel possedere. La vera felicità non è nell'andare dietro a tutte le mode. La vera felicità è anche, in alcuni casi, come in questo caso, è saper diffidare. E di questo ne parliamo domani. Ciao a tutti, vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore.